Oggi mi trovo qui vestita con quest'outfit per parlarvi di Associazione Promo Italia, un'associazione sportiva e sociale che ringrazio fortemente per avermi voluta come madrina nella lotta alla violenza di genere. Promo Italia con i suoi progetti cicliste.eu ed ex ciclisti.it con questa maglia vuole sensibilizzare le istituzioni a contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Ricordo il numero utile 1522 1522, numero antiviolenze stalking con un servizio attivo 24 ore su 24. La violenza sulle donne, sia essa fisica, morale o sessuale, va condannata e annullata a tutti i costi.